Musica Eccoci al nostro appuntamento con Telebelluno Agenda. Vediamo qualche proposta per il weekend a cominciare dalla giornata di venerdì 8 giugno. Parliamo di Eticamente Sport. Venerdì 8 giugno in Sala Bianchi alle ore 18.30 si terrà la presentazione di questo evento. Presentazione della carta etica del Comune di Belluno, illustrazione dei dati del censimento delle associazioni sportive. Aprirà la serata, aprirà questo intervento Marco Bogo, Assessore al Sport del Comune di Belluno. Seguiranno poi altri interventi. L'iniziativa è a carattere libero. Tutti sono invitati a prendervi parte. Sempre in serata, questa volta ci spostiamo però al Teatro Comunale di Belluno. Alle ore 21 prenderà avvio l'incontro dal titolo Blue Revolution, l'economia ai tempi dell'usa e getta. Si tratta in particolar modo di uno spettacolo con Alberto Pagliarino, dai produttori di Pop Economics, lo spettacolo rivoluzionario sull'economia circolare. L'evento gode del patrocinio della Comune di Belluno e vi ricordo che per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook, gittabelluno oppure visitare il sito emftbright.it. Anche in questo caso l'ingresso è libero. Cambiamo ancora argomento, ci spostiamo però nella giornata di sabato 9 giugno. Si darà sabato 9 giugno l'evento di chiusura della rassegna Cibo e Sostenibilità dal locale al globale. Una rassegna che è stata organizzata dall'Associazione Iso-Ipse e dalla dottoressa Daniela Perco. Semi e Semini, questo è il nome dell'evento, è una serata dedicata all'importanza della biodiversità dei semi. Dalle 19.30 al Museo Etnografico della provincia di Belluno e del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi si terranno quindi una visita guidata a tema, giochi per bambini, nonché la proiezione di un documentario che racconta la storia dei custodi dei semi impegnati a proteggere una tradizione alimentare antica più di 12.000 anni. E questo è davvero tutto per l'edizione odierna di Tibi di Agenda. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.